Ti piace Padova? Bellissima, è la mia città. Mi chiamo Galdino e faccio il fioraio, nel mio angolo fiorito sotto il municipio a Palazzo Moroni. A pochi passi dal Bar Margherita, Piazza della Frutta e il Palazzo della Ragione. Questa è la mia città, ci vivo, ci lavoro, proprio davanti allo storico Caffè Pedrocchi, con i suoi leoni che si affacciano alla piazza, il museo del risorgimento. Amo questi angoli suggestivi, la City, con la sua prestigiosa università, il box elettivo Ateneo dove si laureano i migliori, dove passano i goliardi. Durante il giorno, quando ho tempo, giro guardando dove hanno vissuto le celebri e blasonate famiglie padovane, i carraresi, le antiche case storiche, Palazzo Ezzelino, l'oratorio San Rocco, Via Sant'Andrea e la gatta dei padovani e veneziani. Mi piace anche fare un salto nel vecchio ghetto ebraico, permeato e intriso di saggezza e dolore, con i vicoli stretti, soleggiati e fioriti. Il Prato della Valle mi ricorda l'infanzia, bella e spensierata, i primi anni, i passi nella vita. E mentre le campane di Sant'Antonio si fondono in un tutt'uno con quelle dell'orologio di Piazza dei Signori, ascolto i secondi, i minuti e le ore, catturando in silenzio questo viaggio fiorito. Grazie a tutti i nostri spettatori,